Musica Oggi ci troviamo qui a Tenuta Tamburnin per inaugurare la prima panchina gigante del nord astigiano. Vuole essere una festa per tutta la comunità. È stata pensata per rendere ancora più attrattivo questo territorio in cui noi crediamo molto. È una panchina che comunque in un circuito di 38 panchine è la 38esima ed è forse la più vicina a Torino. Abbiamo deciso di posizionare la panchina in un punto strategico dove si potesse vedere il comune di Castelnuovo Don Bosco. La panchina si chiama infatti Castelnuovo Don Bosco. L'invito che ci fa la panchina è l'invito a conoscere Castelnuovo Don Bosco, l'Alto Astigiano e il Monferrato. E credo che sarà veramente un'appassionante avventura conoscere questi luoghi ed assaggiare i nostri vini. La bellezza di queste colline meritava forse essere conosciuto un po' di più rispetto a prima. Perché comunque la panchina noi confidiamo che attiri molta gente e possono condividere un paesaggio che è bellissimo. Sono 12 anni che sono qui e devo dire che non mi sono ancora abituato a questa bellezza e spero di non abituarmi. Per puntare sempre di più su questo sviluppo turistico del nord astigiano ci sono da poco arrivate delle bike, delle bici elettriche che metteremo a disposizione dei nostri ospiti del nostro piccolo wine resort perché possano veramente apprezzare al pieno le bellezze naturali di questo territorio molto variegato che ha vignetti, noccioletti, prati, boschi. Noi siamo qua, siamo aperti sempre sabato e domenica e quindi appunto questo è il nostro invito a usufruire di questi posti, di queste colline, a venirci a trovare, a degustare un bicchiere di buon vino. Appunto un invito a venirci a conoscere. Grazie a tutti.